minima legata con pausa di croma legato c'è un video con bravinsky dove prova questo inizio e non riesce a farlo suonare assieme è vero, non mi sono capace che però non posso farlo però non può farlo in italiano fa sta cosa qua tante volte non riesce a farli partire però si permette dice noi però non riusciva a farlo con le mani un pochettino prenderlo così è chiaro questa volta qualcosa di spirito dove era il suo spirito ma c'era pure quello spirito non 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti